Allora, in questa ottica, la vera ricchezza sembra che derivi dal denaro, è prodotta dal cosiddetto libero mercato, che non esiste da nessuna parte, ovviamente controllato in modo monopolistico, un'organizzazione politica al mercato, non è una cosa di natura che va da sé, e non si riconosce invece che la ricchezza, quale sarebbe uno sguardo lucido, che cos'è la ricchezza? La prima ricchezza è l'umanità, e non è una ricchezza economica. Capite? L'alternativa, lo sguardo economicista, che non vedendo l'umanità, non vede neppure l'economia di servizio all'umanità. Questa non è l'economia, è l'economicismo, cioè un'economia malata.